No, non c'è niente da dire, Bologna è una città accogliente assolutamente, io mi ricordo una delle prime volte che sono venuto a Bologna, scendo alla stazione, vado praticamente lì nella piazzetta davanti alla stazione, incontro subito una persona, mi saluta appena arrivo a Bologna, già passano 5 secondi e la prima persona mi saluta perché Bologna è una città accogliente. Arriva questa persona e dice ciao, vuoi un po' di fumo? Però guarda, non fumo, grazie a me è lo stesso, però è bello essere accolti, è bello che ti offrono subito i prodotti tipici del posto perché è una nuova città, è bello così. Vado un po' avanti, incontro un'altra persona e passano 30 secondi e quest'altra persona di nuovo mi saluta, ecco qua, perché Bologna è una città accogliente, già due persone che mi salutano appena arrivato a Bologna. Questa persona mi dice, ciao, hai 10 centesimi per una birra? E io in quel momento penso, cavolo, la birra a Bologna costa veramente poco, 10 centesimi, non è male, sono arrivato nella città giusta. Però penso anche nel frattempo, guarda, questo mi chiede l'elemosina per comprarsi una birra. Non credo sia il metodo migliore per chiedere l'elemosina. Allora a quel punto glielo faccio un taglio, guarda, mi chiede 10 centesimi per la birra, ma potevi chiedermelo per un panino, secondo me era più efficiente. A quel punto lui mi guarda un po' strano, io faccio un passo indietro perché dico, questo mi sta per tirare un cazzotto, invece mi fa, no guarda, inizia a ridere, mi fa, io ho studiato la Bocconi e la mia tesi è stata proprio il metodo più efficiente per chiedere l'elemosina. Adesso purtroppo non ho lavoro, quindi mi tocca fare il barbone, però ho studiato e chiedere 10 centesimi per la birra è più efficiente rispetto a chiedergli per un panino. A quel punto io alzo le mani, dico, vedi, alla fine studiare conta qualcosa, e niente, gli dico, hai ragione, e gli do 20 centesimi. Ho detto, va, così compri due birre e i brindini, ah, mi ha fatto bene. Vado avanti, vado verso Via dell'Indipendenza, vedo una scalinata molto bella e quindi a quel punto decido di salirci sopra. Arriva una terza persona che mi dice, ciao, vedi, Bologna, una città accogliente, c'è già tre persone che mi salutano nel giro di pochissimo. Vedo che questa persona è un po' simile alla prima che ho incontrato, e lui gli dico, vendi del fumo? Vedi, voglio mettere un attimo le mani avanti. E lui mi fa, no, vendo la coca. Vuoi un po' di coca? E io gli dico, no, guarda, cioè, ci sta che tu vendi la coca, eh, però io preferisco la Pepsi. Ho sempre amato la Pepsi di più. E quindi mi dispiace, ma la Pepsi è più buona, si sa, cioè, ha quel sapore completamente diverso. E quindi, niente, purtroppo, grazie lo stesso. Lui, gentile. Niente, va via. Beh, Bologna, città accogliente. Io continuo ad andare in giro per Bologna, per visitarla, perché è uno dei primi giorni in cui, appunto, l'ho vista. Arrivo lì sotto a Montagnola e trovo il mercato, che era verso sera, ormai c'erano gli ultimi banchi, stavano per chiudere. Allora, a quel punto, mi fermo davanti a un banco del mercato, in cui c'era scritto tutto a 3 euro. Tutte le cose a 3 euro. Bellissimo. Allora, inizio a guardare un po' le cose, e nel frattempo penso, beh, 3 euro. Quindi, 3 euro sono 30 birre qua a Bologna. Quindi è una cosa, ma costa 30 birre. Gli centesimi per... sì, sono 3 euro, quindi sì, 30 birre. Infatti, anche lì ci ho messo un po' per calcolarlo, e nel frattempo ho sentito una signora che chiedeva scusi al negoziante, al proprietario del banco, scusi, quanto costa questo oggetto qua, indicando una cosa che era lì nel banco? C'erano i cartelli ovunque, tutto a 3 euro. Io le stavo per rispondere 30 birre, però no, interviene il negoziante, e gli dice, guardi, signora, costa 3 euro. A quel punto arriva il negoziante verso di me, e mi dice, ciao ragazzo. E' quarta persona che mi saluta, vedi, perché città... perché Bologna è una città accogliente, assolutamente. E mi dice, va, c'è qualcosa che ti piace, abbiamo questi nuovi vestiti fantastici, che sono di fumò. Oppure abbiamo anche questa qua, questo pezzo, questa collana fantastica, che è di birra. Allora, per cui lui mi viene un attimo, dicevo, non è che hai qualcosa di coca? E lui fa, no, di coca non ho niente, ho questo, che è di pepsi, che ci assomiglia molto, però non era interessato, quindi niente, vado via. Arriva sempre più buio, io vado verso Piazza Verdi, una piazza molto bella qua a Bologna, mi siedo per terra, perché tutti siedono per terra a Piazza Verdi, quindi anch'io non voglio far sembrare di essere un turista. Però mi si avvicinano una persona, mi dice ciao, quinta persona che mi saluta a Bologna, perché Bologna è una città accogliente, assolutamente. E questa persona qua mi dice, vuoi una birra? Io lo guardo negli occhi, perché mi sa che questo qua ha capito che sono un turista e mi vuole truffare. Vabbè, comunque gli dico, gli dico, mi andava anche una birra, gli dico, quanto costa? E lui mi fa, va, amico, solo due euro. Gli dicono, guarda, non mi freghi. Gli dicono, guarda, non mi freghi.